ciao bambini ciao genitori ciao nonni oggi faremo un'attività che potete fare insieme molto semplice è un'attività che allena le manine e un po della vostra pazienza ok allora vi faccio vedere i materiali poi dopo un po come faremo per montarlo vediamo pronto e dopo vediamo anche come si gioca ok ciao 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 ciao